Sì, può andare qui la domanda, è quella, cosa... Secondo me ci sono due categorie di persone, quelli che sono molto curiosi e quelli molto chiacchieroni, no? Allora, quelli curiosi che alla fine iniziano a fare i giornalisti, di chiacchieroni, di iniziano a fare i suori, i giustori, i registi, eccetera. E io ho questa caratteristica che ho tutti e due di pezzi, sono curiosissimo e, insomma, è finito. E quindi mi capita di fare i giornalisti e poi anche io dico scrittori per i giornalisti, scritto per i giornalisti, però faccio scrittori per altri, io faccio delle cialtronate, delle cose un po' da ridere, un po' da... però, 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 diciamo che io e Manzoni siamo colleghi, questi due scriviamo, non so come siamo libri, sono anche collega con Eco, cioè, è come giornalista, sono collega con... sono collega di Scalpa, quindi... sì, beh, facciamo tutti lo stesso mestiere. No, raccontare è bello, raccontare, aiutare, essere capaci, io non sono molto bravo, ci provo, vorrei scrivere il romanzo della mia vita, ma non ho mai scritto un romanzo perché non sono capace, scrivo intervini, scrivo racconti di avventure, tipo andare a piedi da Trento a Roma, come ho fatto una volta, oppure, tipo, saggi presuntuosi, alcuni strani dei figli alle donne, come devono comportarsi con loro, cioè, però, la realtà, la realtà, quello che ci diciamo io e il mio amico Massimo Ciri, che è il conduttore di Casa del Pillar, cioè, siamo dei cialtroni, sapete, e come cialtroni siamo dei buoni cialtroni, a un buonissimo livello.